Matteo Bonaccina, classe 84, atleta paralimpico di tiro con l'arco, subisce un incidente sul lavoro. Rimane in carrozzina e deve affrontare una lunga riabilitazione in ospedale che lo avvicina però allo sport come terapia. Nel 2010 inizia così il suo percorso sportivo con il tiro con l'arco paralimpico e l'anno successivo partecipa alla prima competizione ufficiale, i campionati italiani indoor a Terni dove conquista anche la sua prima medaglia, un argento. Il 2013 sarà però l'anno della svolta, vince i campionati italiani indoor a Zola-Perdosa e il campionato italiano in targa a Palermo e arriva alla prima competizione internazionale. Grazie ai suoi successi Matteo è riuscito nella sua impresa a conquistare il pass per le Paralimpiadi di Rio.